Ci può essere una ripresa economica solo se riparte il settore immobiliare, che negli ultimi anni ha visto crollare il numero delle compravendite e aumentare in modo esponenziale le tasse. Questo è il tema della manifestazione nazionale della FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, organizzata a Roma all'Auditorium Antonianum, dal titolo Se riparte l'immobiliare, riparte l'Italia, giù le mani dal mattone. Proposte per rilanciare la crescita e lo sviluppo economico, puntando l'attenzione su un settore che, secondo FIAIP, dal 2008 ha registrato 800.000 posti di lavoro in meno e una tassazione passata dai 9,5 miliardi del 2011 ai quasi 30 del 2014, con il valore complessivo del patrimonio immobiliare diminuito di circa 2.000 miliardi. Il presidente nazionale della FIAIP, Paolo Righi. Oggi la pressione fiscale è altissima e il ritorno del valore sull'investimento sta calando. La casa diventa un investimento nel momento in cui si affronta e si vuole affrontare un periodo di medio-lungo termine. È da dire però che l'economia del nostro paese, in un settore che cuba il 20% del PIL, fa fatica a riprendere proprio perché non c'è una cura sull'immobiliare. Dalla manifestazione a cui hanno preso parte tra gli altri il presidente Confedilizia Corrado Sforza Fogliani, il presidente Ance Paolo Buzzetti e il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri, è arrivato un invito al governo a rilanciare il settore e tra le soluzioni proposte da FIAIP spiega Righi. È quella di una tassa unica come noi proponiamo da vari anni, è una tassa che sia chiara, in Francia ad esempio c'è una tassa per l'abitazione, per chi detiene l'abitazione, una tassa per la proprietà, quindi inquilini e proprietari. Chi detiene la proprietà addirittura nella tassa unica paga anche il canone televisivo, questa è chiarezza, il fatto di poter misurare quanto lo Stato mi prende di tasse, ma questo vista l'alta tassazione la politica forse si guarda bene dal fare questa chiarezza perché altrimenti molte persone forse si spaventerebbero davvero.